Erano attesi da molti anni degli interventi nella parte di fiume Metauro compreso tra l'autostrada e la foce, perché lì un po' di anni fa c'era stata una alluvione, una rotura degli argini. Di conseguenza lo scorso febbraio ero venuto a Fano a presentare uno stanziamento vocato a dei lavori di consolidamento di quella parte di fiume Metauro. Avevo detto che entro l'anno avremmo approvato il progetto definitivo e portato avanti la gara d'appalto. Questo tempo è stato mantenuto, proprio l'altro giorno abbiamo giudicato i lavori ad una ditta di Treia, ditta Francucci, che ha fatto anche un ribasso d'asta consistente. Di conseguenza i lavori sono stati già affidati e dentro il mese di febbraio si insederà il cantiere. Si provvederà alla ripulitura dell'albero del fiume Metauro per tutto il corso dell'autostrada fino alla foce, il consolidamento degli argini, particolarmente nella parte sud.